Stefano Tognazzo della UIL Padova, oggi con le altre sigle sindacali e con dei lavoratori del Configliacchi siete davanti alla prefettura, avete incontrato qualcuno della prefettura per parlare appunto della situazione del Configliacchi, un IPAB. Cosa sta succedendo? Sì, abbiamo incontrato il vice prefetto rispetto a un problema piuttosto serio che è la privatizzazione dell'istituto. Qui si vuole andare a una privatizzazione motivando che c'è una discrepanza nelle assegnazioni delle quote sanitarie e questo provoca un danno economico. È una situazione che si dibatte da tempo per cui si è proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori. Ricci Andrea Cisle, Funzione Pubblica Padova e Rovigo, ecco una privatizzazione quella del Configliacchi che rischia di danneggiare sia il servizio sia i lavoratori? Sì, le prospettive in caso di privatizzazione non sono delle migliori per i lavoratori. È possibile praticamente una precarizzazione del rapporto di lavoro e un decadimento della qualità dei servizi erogati fino ad oggi. È chiaro che comunque le IPAB e non solo il Configliacchi soffrono in questo momento a causa della riduzione del numero di impegnative. Tra l'altro soffrono per una legge regionale di riordino che fatica ad arrivare e si spera che quanto prima la regione ponga praticamente l'attenzione su questa questione che è assolutamente vitale per il territorio. Manuela De Paolis, CGL Funzione Pubblica. Come è andato l'incontro? All'incontro possiamo dire che è andato male, nel senso che il tentativo di conciliazione che è previsto dalla normativa in caso di servizi pubblici è fallito. Di conseguenza lo stato di agitazione andrà avanti. Si è evidenziato però che il problema è un po' il sistema che esiste nella nostra regione di attribuzione delle impegnative di residenzialità nelle case di riposo e di prevalenza del servizio privato che ha dei costi inferiori rispetto al servizio pubblico.